Innanzitutto un grazie a tutti voi che siete qui presenti oggi e soprattutto un grazie anche ai giornalisti e al Presidente Alparompozzo che è qui presente con noi oggi per questa importante presentazione del nuovo allenatore dell'Udinese per la prossima stagione. E' un momento importante questo per la società in quanto ovviamente la scelta che è stata fatta è stata fatta su un allenatore estremamente preparato per quanto riguarda la Serie A, ha militato in maniera importante per circa sette stagioni con l'Atalanta e che è un allenatore che ci è stato caldeggiato da moltissimi. Quindi un grazie per la sua presenza qui oggi per aver firmato con l'Udinese Calcio questo contratto e passo la parola al Parompozzo. Signori buongiorno. Bene, abbiamo concluso quest'annata. Io prima di tutto volevo ricordare una cosa e lo ricordo sempre ogni anno che siamo da 21 anni mi pare in Serie A, giusto? E questo ritengo già un avvenimento eccezionale perché qui ci si dimentica che effettivamente noi siamo una piccola società, lo dimostrano i ricavi. Capisco che il tifoso ha voglia di vincere, non gli interessano i numeri eccetera, ma io mi rivolgo a voi giornalisti i quali siete portatori di cultura verso il popolo. Perché se la gente legge i giornali legge per apprendere notizie e apprendere anche qualcosa a livello culturale dal giornalismo. E quindi alle volte vedo che certi risultati vengono trasmessi dal giornalismo in maniera sbagliata perché questa è una società che il suo primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza. Quindi io mi riferisco all'anno scorso e devo dire che l'abbiamo raggiunta senza soffrire e quindi è stato un obiettivo importante e quindi non voglio rinegare nulla di quello che è stato fatto. Poi io sono soprattutto un tifoso, voi lo sapete che nel calcio lo faccio per passione, per tifo, non mi sento un professionista e quindi neppure ritengo di avere le capacità di farlo. Io sono un imprenditore, credo di aver fatto il mio mestiere di imprenditore abbastanza bene e il calcio lo faccio solo per passione, quindi il primo obiettivo sarebbe sempre quello di raggiungere i massimi risultati. Però bisogna lavorare e ragionare con i piedi per terra altrimenti si rischiano delle brutte avventure e purtroppo ogni anno o quasi ogni anno si vede qualcosa di società nelle varie categorie che finiscono male. Quindi bisogna stare attenti. Quindi concludo per il passato, poi dico siamo arrivati anche terzi in classifica, abbiamo fatto alcuni diversi anni di Europa e tutto questo grazie a una politica societaria che va alla ricerca di giovani perché non abbiamo altre possibilità, alle volte crescono in fretta e diventano subito dei campioni e danno dei contributi determinanti per il risultato, altre volte hanno bisogno di più tempo e altre volte non sempre quello che si vede in un giovane poi matura e si sviluppa negli anni. Quindi partiamo con questo principio. Ringrazio il predecessore del mister, ringrazio anche lo staff del predecessore, hanno fatto un buon lavoro, hanno adempiuto a quello che la società aveva chiesto, aveva chiesto la salvezza. Bene. Perché siamo qui adesso con il nuovo mister? A parte che lui sa che sono anni che lo stimiamo, avevamo avuto già altri contatti, eravamo vicini, poi lui ha fatto altre scelte e finalmente è qui. Quindi crediamo molto nel suo lavoro, iniziamo questa nuova stagione con grande entusiasmo, dobbiamo renderci conto che non è facile scegliere l'allenatore dell'Udinese. È una situazione un po' particolare. Noi lavoriamo, come detto prima, con molti giovani e poi abbiamo anche altri giocatori che ovviamente sono lo zoccolo di questa società, ma anche perché vogliamo dare dei segnali ai calciatori che Udine può essere una tappa di passaggio. Però esistono dei casi di giocatori che sono qui da 8, 10, 15 anni e quindi vuol dire che c'è anche la possibilità di rimanere a Udine, di fare una buona carriera, una ottima carriera perché alla fine magari uno finisse la carriera a 30 anni e con ingaggi importanti. Noi possiamo offrire ingaggi inferiore però uno arriva a 35, 36, 37 anni, a fine carriera rischia, no, ovvero tira le somme e non è andata male. Quindi vuol dire che se uno non trova la Juve, il Milan eccetera non è detto che sia una disgrazia perché a Udine ha la possibilità di fare un'ottima carriera. e quindi esiste anche la possibilità di sentire la maglia nella pella, cosa che oggi è un discorso difficile da farsi verso i giovani, che noi andiamo a cercare dei prospetti importanti e quindi hanno anche delle ambizioni, e quindi se esplodono ovviamente hanno la richiesta di grandi squadre e purtroppo anche se avessimo la voglia, se volessi fare anche un sacrificio io, mio, personale, non potrei farlo perché di fronte a prospettive importanti, che è un giocatore al diritto della sua carriera. E cerco di concludere in breve, era un piccolo salmoncino ai giornalisti, questo qui, no, perché per pregarvi ancora una volta di essere più collaborativi e di capire che insomma si vive una realtà del tutto particolare. Al mister noi diamo una responsabilità importante perché ha un passato qui, diciamo, anche di risultati importanti e il materiale che gli mettiamo a disposizione è sempre di giovani, di buona speranza e che bisogna farli crescere. Allora il compito del mister non è solo di essere, non basta essere un buon allenatore, saper allenare eccetera, bisogna avere tante tante altre caratteristiche che noi abbiamo trovato nel mister Colontuono perché effettivamente ha la personalità, ha l'autorevolezza e l'autorità di tenere vicino un spogliatoio non facile perché è multietnico con culture diverse e in pochi giorni, in poche settimane di lavoro devi rendere, diciamo, un ambiente con una mentalità comune a tutti e portarli a un livello culturale che non è per tutti i paesi uguale eccetera. Quindi è un grande lavoro ma sono convinto che lui è assolutamente all'altezza di farlo per la forte personalità che ha. Quindi adesso non so chi... Passiamo alle domande dei giornalisti. Direttore Giaretta, naturalmente potete vi chiedere anche a Padron Pozzo, al Presidente Soldati di quello che volete nel corso di questa conferenza. Vi pregherei, essendo alla prima conferenza con il nuovo mister, di presentarvi quando fate la vostra domanda. Guido Gomirato, Gazzettino, buongiorno. Prima di fare una domanda a lei volevo farla a Pozzo. 21 anni di Serie A, sono 25, 21 anni di seguito, ma lei ha un curriculum di 25 anni di Serie A. E in 100 anni, allora sono anche 35. Più del doppio della storia dell'Udinese in A. Quindi sottolineiamo che questo è particolare. Per quanto riguarda l'allenatore, io credo che sia stata fatta una scelta ponderata che non ha tenuto conto che il signor Colantuono è stato esonerato, a parte che aveva un'Atalanta depauperata di alcuni elementi importanti, con Dennis, lui sa che non ha fatto la preparazione. Ma voglio dire che la scelta è stata dipesa dal suo curriculum, da come lui lavora. Quindi è un modo nuovo da parte di una società a segre un allenatore, perché di solito in una società non seglie mai l'allenatore esonerato. Si vede che ha puntato sul modo di lavorare di Colantuono e su quello che ha fatto anche quest'anno. Lei la domanda. E' ovvia la risposta, perché prima di tutto un allenatore si è lavorato tanti anni in una società con caratteristiche similari all'Udinese, con risorse limitate come quelle dell'Udinese e ha fatto molto bene perché non ha messo. Quindi non è possibile che appunto si esprima un giudizio negativo verso la carriera di un allenatore, perché a un certo punto dopo tanti anni, 6-7 non so quanti anni, ha lavorato l'Atalanta, e poi a un certo punto abbiamo anche la conferma che le potenzialità erano quelle che erano, ma io non voglio entrare negli affari degli altri e quindi ha lasciato la squadra che era nella zona salvezza e si è salvata. Quindi lui aveva fatto il suo dovere, ha lasciato, ma non credo che questo sia un neo, perché noi infatti non abbiamo dato nessuna importanza a questo episodio, nel calcio succede questo, alle volte si cambia anche per dare una scossa, per provare, per vedere, perché ovviamente quando una squadra non funziona la base è sempre, la causa è sempre la qualità dei giocatori, però talvolta succede che cambiando l'allenatore riesce a dargli quella scossa che nel calcio purtroppo è difficile stabilire scientificamente perché non è nulla di certo, e allora magari sono quei tentativi, però con questo non si può togliere assolutamente l'esonio di un allenatore non è un... Mi trovo d'accordo, ma la domanda era anche per Colantuono. Questo significa, Colantuono, che il comportamento della società che ha puntato sul curriculum, su come lei lavora, mentre siamo abituati a vedere in Serie A che si guarda gli ultimi risultati e si vede che questo è stato esonerato, perché lo portano... Questo dimostra quanta fiducia ha la società in lei. Sì, infatti io ringrazio la proprietà di questa grandissima chance perché reputo l'Udinese una società all'avanguardia, una società che viene presa a modello da tanti club in Italia, tra le altre cose anche noi dell'Atalanta per alcune cose ci siamo ispirati all'Udinese per il modo di lavorare, e quindi questo mi fa molto piacere. La domanda che faceva lei, sì, è giusta, è chiaro che a volte si cerca di dare una scossa, ma l'Atalanta quando io sono andato via era salva, era quatt'ultima, con tre punti di vantaggio sul Cagliari, con lo scontro diretto tra le altre cose a favore, e l'Atalanta comunque è arrivata a quatt'ultima con tre punti di distanza dal Cagliari e con lo scontro diretto sempre a favore. Quindi significa che tutto sommato il lavoro quest'anno poteva essere quello, perché all'Atalanta abbiamo fatto cose straordinarie in questi anni e ci poteva stare che in un percorso poi magari così lungo e di grandi sacrifici ci potesse essere un anno meno brillante degli altri, perché noi abbiamo concluso sempre i campionati con 50 punti in carniere, tranne un anno ne abbiamo fatti, credo, 44, partendo anche con penalizzazioni. Per cui, ripeto, questo mi fa molto piacere e di questa chance non posso che ringraziare la famiglia Pozzo, così come ringrazio comunque la famiglia Parcassi, con la quale ho uno straordinario rapporto e che mi ha comunque permesso di svincolarmi, perché avevo due anni ancora di contratto, e di poter affrontare questa nuova avventura con grande entusiasmo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Meroi, messaggero Veneto. Buongiorno. Volevo chiedere, a Bergamo lei ha lavorato con Pierpaolo Marino, che è una persona che forse conosce meglio di tutti l'ambiente udinese. Se le ha detto qualcosa, che cosa le ha raccontato di Udine? Marino mi ha raccontato di Udine, sempre di una società all'avanguardia, di una società straordinaria, dove poter lavorare, dove si può lavorare molto bene, perché è una società super organizzata. Ripeto, quello che un po' ho detto prima, insomma, l'udinese nel nostro ambiente viene sempre presa a modello come un certo tipo di società, che è sempre pronta a tutto, che ha struttura, che ha organizzazione, che ha uno staff consolidato, per cui Marino mi ha solo parlato bene dell'udinese. Buongiorno, Francesca Spangaro, Telefriuli. Buon lavoro. Una domanda per lei e una per il Paromposso, bravissima. In che cosa si possono somigliare a Talante Odinese e in cosa invece pensa che il suo lavoro qua sarà radicalmente diverso dalla sua più recente esperienza? E poi, guardando anche agli obiettivi, una domanda al Paromposso, perché prima diceva appunto il predecessore ha fatto quello che è stato chiesto, ovvero la salvezza, però se si è cambiato, allora adesso vuol dire che gli obiettivi sono altri? Per quello che riguarda il parallelo fra le due società, credo che ne abbia parlato il Presidente prima giustamente, sono due società che grosso modo rispecchiano un po' lo stesso profilo, anche se poi l'udinese in questi ultimi anni, insomma non dimentichiamoci, che ha partecipato per due volte alla Champions League, ha fatto l'Europa League, però è chiaro che il profilo è di una provinciale, diciamo, importante, direi così, quindi sono due società che da questo punto di vista si somigliano molto, che hanno partecipato a tanti campionati di Serie A, perché anche l'Atalanta ne ha fatti tantissimi di Serie A e quindi anche l'Atalanta ha una struttura molto importante, quindi da questo punto di vista direi che sono due società molto simili. Poi per quello che riguardano gli obiettivi, credo che su questo possa rispondere il Presidente, io non posso far altro che associarmi a quello che ha detto Pocanzi lui, comunque l'udinese, io mi ricordo quando Guido Lynch entrava alla Champions League e poi quando ripartiva diceva l'anno dopo il primo obiettivo è la salvezza, che comunque è necessariamente d'obbligo perché qualsiasi obiettivo una società voglia raggiungere passa prima dai 40 punti, quindi quanto prima una squadra sarà stata brava a raggiungere e a mettere in cassaforte la permanenza nella categoria, che poi credo sia una cosa fondamentale, e se ci sarà spazio e tempo, perché non andare a guardare anche altre cose, visto e considerato che l'udinese in passato l'ha fatto, però credo che il primo obiettivo sia sempre quello. Buongiorno, Marco Grusti, deve rispondere il vostro Presidente. Ambizioni, le ambizioni sono tante, sempre con i piedi per terra, perché se adesso finalmente, dopo dieci anni di battaglie, siamo riusciti a costruire uno stadio, è perché sempre negli obiettivi della società era la volontà di crescere. Quindi noi pensiamo che lo stadio dia maggiori risorse, fidelizzi maggiormente i tifosi, che sono una cosa determinante, perché bisogna dire anche, e non dobbiamo dimenticare, che abbiamo giocato l'anno scorso in un cantiere, e quindi anche questo ha influenzato parzialmente i risultati in casa, perché la presenza di un tifo, noi abbiamo un tifo educato, tranquillo, però non è proprio infiammato, e quindi adesso, va bene, abbiamo fatto lo stadio all'inglese, perché possono dare il 5 ai giocatori, perché siamo a ridosso del campo. Quindi sono tutte cose, pensate appunto per creare tutto questo entusiasmo casalingo che permetta di ricavare qualche punto in più, ma soprattutto sponsor e tutte queste attività che cerchiamo di fare al fine proprio di migliorare, diciamo, la nostra classifica di incassi di risorse per poter appunto ambire a migliori risultati. Abbiamo parlato di salvezza, ma abbiamo anche dimostrato negli anni che siamo riusciti a fare cose straordinarie, cose che normalmente fanno società che non hanno 40-50 milioni di ricavi come l'Udinese, ma 250-300 milioni. Quindi allora non si può mai dire mai, ecco, no, a tutto. Quindi noi partiamo con i piedi per terra, con tanta ambizione da parte di tutti, perché è una cosa che è positiva che tutti quelli che vengono qui vengono per fare carriera e quindi sono tutti ambiziosi, compreso il mister, perché la prossima volta va in una grande società. Questo glielo firmo. Speriamo però che questo si ritardi un po'. Bellier non diventa armato, Bellier dovresti continuare. Ecco, grazie. Buongiorno, Marco Agrusti, Gazzettino. Ci siamo sentiti pochi giorni fa. Una domanda per lei e una per il patron Pozzo. Comincio da lei. Arriva dopo la peggiore Udinese da quando il campionato è a 20 squadre a livello di prestazioni e di punti. Sente questa responsabilità? Perché in realtà qui il pubblico è vero che la salvezza è l'obiettivo, poi però alla fine la gente, quando diventa solo la salvezza inizia a fischiare. Quindi insomma sono abituati abbastanza bene. La sente questa responsabilità? Invece per il patron Pozzo è un anno più uno di opzione per Stramaccioni, biennale per Colantuono. Significa che c'è più fiducia in Colantuono rispetto a Stramaccioni? Significa che già c'era evidentemente un progetto diverso dietro a questo allenatore fatto e finito a differenza di Stramaccioni? Parto io? Ma avevi chiesto, scusami, ora stavo... La responsabilità che sente dopo la... Sì, ma no, intanto guarda, io volevo anche salutare tra le altre cose Stramaccioni, con amicizia, con cordialità, capisco che sono dei momenti particolari, ma nella nostra carriera questi sono momenti che si vivono, io l'ho vissuto, era marzo, quindi fanno parte del gioco e sono convinto che presto potrà tornare in pista e lo saluto cordialmente. La responsabilità è quella di allenare l'Udinese, poi quelli che saranno... che è una grossa responsabilità perché ritengo l'Udinese una società importante e quella è la mia responsabilità, cercare di poter rendere al meglio, di lavorare quotidianamente, la cosa che io prometto senza dimore di essere smentito è quella di lavorare sodo dalla mattina alla sera, perché ho fatto sempre così in questi 15 anni di carriera e la voglia non è mai lesinata. Poi a volte il calcio, lo sapete meglio di me, è legato a un palo, a un episodio, però credo che quando c'è voglia di lavorare e si è messo nelle condizioni ideali di lavorare, come qui ad Udine, poi alla lunga quello che tu hai pensato, hai immaginato, credo che possa arrivare. La responsabilità me la prendo, sono convinto che potremo fare un buon campionato, così come diceva il Presidente, come lo è stato quello dell'Udinese l'anno scorso per quello che riguardano gli obiettivi e andremo a valutare quotidianamente. Ripeto, solo con il lavoro, fare promesse o sbandierare cose, credo che intanto non fa parte del mio profilo, mi ritengo molto una persona che con i piedi molto ben piantati per terra, per cui stare a fare programmi non mi piace, anche perché gli obiettivi, poi come diceva un altro allenatore, il mio collega che è Deglio Rossi vanno centrati, non vanno enunciati prima, vanno centrati. Noi ci attrezzeremo per fare sicuramente un campionato che possa accontentare i nostri tifosi, cercare di esprimere un buon calcio, perché credo che l'Udinese abbia i giocatori per poter fare questo. Parlava del predecessore, bene, lui ha fatto il suo dovere, gli abbiamo chiesto la salvezza, la salvezza l'ha conseguita. Ritengo che sia un ottimo allenatore, un allenatore giovane, e avevo premesso prima che allenare questa piazza non è una cosa semplice, perché non basta essere bravo allenatore, eccetera. Poi ci vuole anche la maturità, che non so, sarà come il vino, che non riesci, il vino diventa buono dopo alcuni anni. Ecco, e quindi io sono rimasto, ho detto che ero e rimango un tifoso di stramaccioni e vi garantisco che sicuramente sarà un allenatore che farà carriera. Ecco, qui ha fatto bene il suo lavoro. Per me, visto la particolarità di questo di questo ambiente, del nostro spogliatoio, hai bisogno di un allenatore vi ho detto autorevole o autoritario che che abbia la personalità di tenere vicino tutti questi ragazzotti. Ecco, questo è una cosa importante. E come vedete ci sono degli aspetti che solo diciamo la maggiore esperienza ti permette di senza criticare nulla perché poi se ribadisco che lui ha fatto il suo dovere che noi siamo rimasti contenti abbiamo parlato di un'opzione e si è liberato il mister se era libero l'anno prima l'avremmo preso perché era una priorità. Ecco, rispetto quindi per questo non è diciamo una scelta un titolo di demerito per non avere esercitato l'opzione ecco è solo che a un certo punto abbiamo fatto una scelta che riteniamo per questa situazione il mister la persona più idonea per portare avanti questo progetto. Bastiano Franco della Rai mister ha già parlato con Totò di Natale e se ha già parlato se lui rimane a 38 anni cambierà magari il suo ruolo all'interno della squadra nel senso magari non sarà tutto più incentrato su di lui oppure si continuerà allo stesso modo come si è andato avanti negli ultimi anni. Io ancora con Totò non ho parlato ma anche questa cosa è successa in questi giorni per cui ho dovuto prima espletare delle formalità con la società la mia vecchia società e con la nuova società mi riproporrò di farlo sicuramente nei prossimi giorni io credo che parlare di di Natale insomma non ce n'è bisogno insomma lo do anche l'anno scorso ha fatto il suo il suo campionato ha fatto i suoi 14 gol se non vado errato è un valore sicuramente aggiunto per questa squadra ed è un punto di riferimento per cui vedremo quello che sarà come fai a fare delle previsioni su un giocatore che ha dimostrato comunque ancora di stare bene o a priori dire farà giocherà part time piuttosto che è chiaro che un giocatore che andrà gestito in maniera diversa perché un giocatore che ha 39 anni ha delle esigenze diverse da un ragazzo di 20 o di 22 però io sono convinto che lui ha talmente tante esperienze talmente tanto intelligente e io mi metto a sua disposizione perché mettersi a disposizione del giocatore è mettersi a disposizione poi dell'Udinese noi abbiamo bisogno di tutti coloro possano farci fare le cose per bene e siccome in questi anni di Natale è stato quello che ha contribuito maggiormente per numero di gol alle sorti dell'Udinese io mi auguro che possa contribuire ancora ma sono convinto che al di là dei gol o dei numeri potrà essere una presenza utile e fondamentale anche per il gruppo insomma poi deciderà lui è chiaro io non so Totò poi se il Presidente ci ha parlato io non lo so non so lui cosa ha deciso di fare ma credo che lui sia ancora bene penso che possa essere ancora utile poi lo decideremo stare facendo questo Buongiorno Franco le ha chiesto giustamente di di Natale io le chiedo se nella squadra di quest'anno lasciando stare il mercato che verrà Patron Pozzo ha parlato di tanti giovani che sicuramente sono stimolanti da allenare se la sente di fare qualche nome di quelli che sicuramente resteranno o se le è rimasto impresso qualcuno di quest'annata che le è piaciuto più degli altri assolutamente no insomma perché sarebbe non è questo è un momento per parlare di giocatori che resteranno di mercato stiamo facendo un po' il punto della situazione e parlare oggi di una cosa sarebbe intanto irrispettoso nei confronti di chi compone questa rosa ma potrebbe essere anche tutto così Aleatori oggi parli di un giocatore che sei convinto che possa rimanere e poi magari te lo portano via perché ci sono richieste importanti oppure pensi che uno non può rimanere e invece poi alla fine lo tieni perché c'è le dinamiche ancora non è che sono c'è ci sono delle idee è chiaro ci sono dei discorsi che stiamo stiamo affrontando però lo faremo in questi giorni con la massima calma perché vorremmo fare le cose veramente veramente per bene e farle di fretta come c'è il famoso detto la gatta presciolosa ha fatto i figli ciechi per cui meglio fare le cose con calma e con tempo una cosa è certa la rosa dell'Udinese è una buona rosa formata da uno zoccolo duro come prima citava il presidente di giocatori che possono essere l'anima di questa squadra che possono essere quelli da prendere come esempio e poi c'è un gruppo di giovani di estremo valore che si integra bene con questo zoccolo duro che può fare delle cose secondo me all'altezza di quelli che poi saranno gli obiettivi che andremo a identificare è chiaro che probabilmente qualcosa sul mercato andremo a fare però ora parlarne è un po' troppo presto diciamo buongiorno Minister due domande la prima appunto sui giovani lei a Bergamo aveva sempre questa nomea di non lanciare i giovani almeno per quello dei tifosi e poi secondariamente come si è lasciato un po' con la società con i percassi bene con il resto della società bene lo stesso perché Marino ha detto mi sentivo si sentiva quasi sollevato dopo l'esonero di regia ma no il discorso è il tattico discorso dei giovani quello che può dire è un tifoso o due tifosi è rilevante io credo che per ogni persona per ogni allenatore per chi lavora comunque c'è sempre dietro qualcosa di scritto e c'è un background basta guardarlo quello che è stato fatto in questi anni a Bergamo specialmente nella seconda fase dopo il ritorno noi abbiamo fatto dei campionati importanti lanciato tantissimi giovani abbiamo mandato abbiamo soprattutto ricostruito giocatori che erano persi senza entrare nel dettaglio dei nomi perché non è carino ma giocatori che erano quasi persi li abbiamo ricostruiti e con i quali l'Atalanta poi ha potuto fare anche mercato abbiamo messo in mostra tantissimi giovani poi il suo discorso dei giovani diventa una cosa un po' annosa il giovane è importante è importantissimo ed è chiaro che non c'è differenza l'importante è che l'Udinese vinca e lo deve fare attraverso i giovani se ci sono in rosa o attraverso i meno giovani se ci sono non è che si può fare un discorso diverso perché poi credo che l'obiettivo è primario vada raggiunto poi le strade possono essere tante io con i giovani non ho nessun tipo di problema la storia l'Atalantina lo dimostra e per quello che riguarda come mi sono lasciato con Bergamo bene io con la proprietà ho un ottimo rapporto con Pierpaolo uguale lo stesso con Sartori non è che mi sono sentito sollevato è che forse dopo tanti anni vissuti a certi ritmi tu sei bene perché stavi lì quello che abbiamo fatto noi in questi anni noi insomma abbiamo fatto 52 punti il primo anno l'anno dopo ci siamo salvati e a gennaio abbiamo mandato tre titolari l'anno dopo abbiamo rifatto 50 punti abbiamo lottato per l'Europa il primo anno con i 52 punti ci saremmo andati molto vicino senza dimenticare che nella mia prima stagione atalantina l'Atalanta andò in Europa poi non la fece perché si rifiutò di fare l'intertoto all'epoca era un'altra gestione però raggiungemo l'Europa questa è una cosa che spesso non viene detta ma noi con l'Atalanta raggiungemo l'Europa quindi abbiamo fatto delle cose importanti mi sono lasciato bene con tutti ripeto non è stato un sollievo è stata forse una presa di coscienza comune io ho parlato con Marino gli ho detto che se eventualmente volevano dare uno scossone come solitamente si fa in questi casi quando la squadra tende un attimino magari ad appiattirsi potevano farlo tranquillamente che da parte mia avrebbero avuto sostegno non ci sarebbe stato nessun problema ma perché a quella città e a quella proprietà sono legati da valori molto forti di grande affetto e di grande gratitudine ripeto sia nei confronti delle due proprietà anche in quella ruggeria ma anche nei confronti della città dei tifosi io sono stato sette anni sono tanti in una piazza in Italia credo che sia una cosa estremamente rara e ci sono stato molto bene sono molto legato a Bergamo per tantissimi motivi rimarrà sempre nel mio cuore ora è chiaro che comincia una nuova avventura e spero di poter ripetere quello che è successo a Bergamo anche qui ad Udine magari cercando anche di fare meglio perché credo che ne siano le possibilità volevo fare ancora due domande una sullo stadio questo è un anno importante come diceva prima il Presidente perché c'è lo stadio nuovo e questa se vogliamo è un'altra piccola responsabilità e poi non parliamo di giocatori ma parliamo magari di modulo questa è una squadra che è sempre stata abituata negli anni a giocare a tre i migliori risultati sicuramente da Spalletti a Zaccheroni sempre con la difesa a tre Stramaccioni l'anno scorso ha giocato a tre ma ha giocato anche a quattro perché poi la difesa a quattro ti permette di portare di avere più soluzioni dalla metà campo in su lei ha già un orientamento e eventualmente preferisce avere un modulo base e cambiare magari in base le caratteristiche dell'avversario oppure cambiare spesso no cambiare in base alle caratteristiche dell'avversario no non l'ho mai fatto salvo in rare circostanze quando diventava forse necessario io credo che questa squadra noi dobbiamo trovare il vestito giusto a questa squadra credo che come diceva lei Poganzi che il vestito migliore che ha indossato Rudinese negli ultimi anni è stato quello insomma con una difesa a tre un 3-5-2 che poi può diventare un 3-5-1-1 a volte è diventato un 3-4-2-1 perché spesso Francesco Guidolin faceva anche questo credo che quello forse possa essere il vestito migliore però si può fare anche altro non è detto intanto però bisognerà vedere la disponibilità e parlare con i calciatori perché io non ho mai non sono mai stato un integralista o meglio non ho mai chiesto ai giocatori di integrarsi totalmente a quelle che erano le mie idee se hai una squadra che preferisce fare una cosa diversa bisogna essere pronti a cambiare e ad adattarsi anche a quello che la squadra sa fare meglio e quindi c'è già un'idea ne vorrò discutere anche con la squadra perché è giusto io ho le mie idee e vanno rispettate però qui si lavora di equip si lavora di staff si lavora con la squadra e loro devono devono darti anche dei segnali io vorrò capire qual è la cosa che pensano possa essere più utile all'Udinese perché io posso essere fissato con una cosa ma poi se la squadra non è in grado di farla farei solo del male però ecco credo che quello che diceva lei Pocanzi possa essere un'idea perché stavo riguardando un po' negli ultimi giorni le cose dell'Udinese questa squadra ha ancora 7-8 giocatori se non vado errato dell'ultima qualificazione in Europa League e giocavano in una certa maniera c'è da dire anche che comunque oggi i calciatori sono abbastanza eclettici per cui il sistema di gioco diventa anche facile cambiarlo in corsa sanno fare un po' tutti e poi ai numeri io onestamente credo poco alla fine il calcio si concentra molto su due aspetti fondamentali che se non difendi con 8 giocatori se non metti 8 giocatori dietro la linea della palla fai fatica a fare una buona fase difensiva e se quando attacchi la porta non ne porti 4-5 dentro poi diventa difficile fare gol che poi siano attaccanti o siano centrocampisti questo cambia poco ma la presenza in area è importante e quindi ci sarà bisogno di questo ma andremo a scegliere comunque il sistema il sistema di gioco ripeto parlando anche con la squadra voglio sentire bene loro cosa pensano di questo mister buongiorno Nicola Angeli Udine Today anni grandi a Bergamo ma anche qualche esperienza precedentemente meno gratificante diciamo come può essere stato il Toro oppure Palermo cosa non deve succedere di quelle situazioni io ci tengo a raccontare perché a volte ci sono esoneri esoneri io sono stato esonerato col Palermo la prima volta sesto in classifica ero sesto ci tengo a dirlo perché comunque ero sesto in classifica sono stato esonerato una scelta che io ho accettato perché i presidenti comandano e mettono i soldi e possono fare tutto quello che ritengono più opportuno anche allontanare l'allenatore che è sesto in classifica e sono stato richiamato credo dopo 13 o 14 partite finimmo molto bene il campionato tant'è che poi il presidente chiese la mia riconferma e rimanei poi sono stato esonerato dopo una partita voglio dire quell'anno onestamente fu ingiudicabile insomma non credo che si possa giudicare un allenatore se ha giocato solo una partita tra l'altra cosa proprio qui a Udine fu la prima giornata per Demo e fui esonerato per quanto riguarda l'esperienza al Toro l'esperienza lì anche ci fu un esonero ero nei playoff dovevamo vincere il campionato eravamo nei playoff esonerato quattro partite sono stato fuori sono stato subito richiamato cambiamo completamente la squadra a gennaio arrivarono 14 giocatori nuovi arriviamo primi nel girone di ritorno e facciamo la finale per andare in Serie B con una squadra nettamente inferiore a quel Brescia per cui non penso che sia stata un'annata negativa anche quella e poi è ricominciata la parentesi ad Atlantina con i numeri che abbiamo visto poc'anzi per cui insomma a volte sì è vero c'è un esonero perché poi rimane impresso l'esonero però bisogna vedere anche che tipo di esonero è stato così come l'esonero di quest'anno insomma l'Atalanta era salva anche quest'anno quando io sono stato allontanato e comunque eravamo in pieno stavamo rispettando quello che ci avevano chiesto tutto qua cioè non volevo non era polemica questa era solo un attimino ribadire come erano successe queste cose perché poi rimane sempre impresso l'esonero però bisogna vedere che tipo di esonero è stato buongiorno mister Mattia Pertoldi messaggero Veneto faccio una domanda a lei una al presidente se posso da profondo conoscitore della serie A come immagino che abbia visto in questi ultimi mesi l'Udinese giocare soprattutto nel giro di ritorno dall'esterno si è avuto l'impressione di una squadra un po' da encefalogramma piatto e i risultati non sono stati sicuramente all'altezza le chiedo tecnicamente dall'esterno che idea si è fatto cioè se è da intervenire più mentalmente sulla squadra oppure se c'è da cambiare qualcosina a livello profondo visto che come ha sottolineato lei ci sono ancora 7-8 giocatori reduci dall'ultima Europa League quindi se il primo step diciamo è mentale oppure a mente tecnico mentre al presidente chiedo lo scorso anno abbiamo visto un mercato rispetto diciamo così alle abitudini dell'Udinese un po' diverso sono arrivati giocatori pressoché pronti come Tarnese Spiris teoricamente anche Guilherme Theroux Cone e la squadra in campo però diciamo rispetto al passato dell'Udinese non ha retto e non ha prodotto quel tipo di risultati che forse ci si aspettava perché credo che anche lei qualcosa in più di 41 punti comunque comunque se li attendesse è un problema così secondo lei più che altro di manico e per quello che avete cambiato allenatore oppure è un problema per cui l'Udinese quando cambia tipologia di mercato come ha fatto l'ultimo anno poi non rende parto io allora per quello che riguarda il discorso udinese dello scorso anno io non mi permetterò mai di parlare dell'Udinese dello scorso anno perché c'era un mio collega sarebbe rispettoso e riguardoso nei suoi confronti non lo farò mai ripeto di Stramaccioni ho già detto lo saluto cordialmente ho visto delle partite è chiaro perché le ho viste mi sono fatta una certa idea per cui che spero sia giusta tra le altre cose perché qua parliamoci chiaro qua maghi non ce ne sono non è che uno arriva tocca qua la panacea a risolvere tutti i problemi non è che ce l'ha nessuno solo con lui il lavoro si potrà si potrà venire fuori da determinate situazioni ripeto mi sono fatta un'idea cercherò di di lavorare e se è possibile migliorare dove secondo il mio punto di vista ci sono dei margini di miglioramento ma questo lo potremo fare solo quando comincerà la stagione e quando inizierò a lavorare con la squadra per quanto riguarda il mercato dell'anno scorso direi che effettivamente noi abbiamo preso alcuni giocatori provenienti da campionati diversi dove avevano avuto un rendimento notevolmente superiore a quello che poi hanno potuto sviluppare a Udine bisogna tenere presente che il campionato italiano è un campionato un po' atipico non ti danno spazio le difese è un po' diverso di altri campionati quindi un giocatore quando arriva qui ha bisogno di un certo adattamento sono ottimi giocatori perché come vi ho detto altre volte non è che li andiamo a prendere tra i profughi che arrivano qui che hanno diritto di tutto il riguardo e quindi magari mandare anche un osservatore a vedere se c'è qualche talento in mezzo però questo non l'abbiamo fatto e quindi sono tutti i giocatori che hanno un buon curriculum che però come sempre spesso succede che arrivano qui dei giocatori che la gente si chiede ma dove li hanno presi questi giocatori e poi invece abbiamo tanti esempi che sono esplosi e che ora giocano nei massimi campionati e nelle massime squadre ecco quindi io direi che è vero che il rendimento della squadra non è stata all'altezza di quello che ci si aspettava tutti però prima di esprimere un giudizio io aspetterei ancora un anno diciamo superato il rodaggio e quindi è stato un anno di transizione un po' per tutti sia per tutti questi giocatori nuovi sia per lo stadio che ribadisco ha avuto anche questa il suo peso giocare lì in mezzo alle gru non è proprio il massimo ecco ho le otto del messaggero visto il calore questo caldo tremendo presidente patrone ci faccia fare sto sport un po' da ombrellone cosa le ha promesso a questo colantuono io prendo un attaccante un bomber perché la gente vuole un po' sognare le ha promesso le prendo un giocatore da 15 gol gliel'ha detto o no? per la verità è appena arrivato così lui ha accettato così lui ha accettato in bianco così il tema voi sapete che un bomber non è facile no? possiamo tirar fuori tanti esempi la volontà effettivamente il bisogno c'è di un giocatore che possa diciamo fare non direi le veci di Natale perché di Natale qui è un giocatore a tutti gli effetti dell'Udinese dopo non so se lui vuole smettere di giocare purtroppo non dipende da noi dipende da lui sta di fatto che lui ha il contratto anche per il prossimo anno quindi sulla carta è un giocatore dell'Udinese dopo le dichiarazioni che ha fatto le avete le ha fatte a voi a me non ha mai fatto nessuna dichiarazione al contrario che allungare il contratto e quindi sappiamo che di Natale non è eterno sappiamo che gli altri hanno fatto il loro dovere no? perché poi dieci golli ha fatto il terro eccetera eccetera ci sono dei giovani di buone speranze che promettono bene ma ovviamente bisogna cercare anche voi lo dite il bomber ma questo insomma tutti cercano il bomber avete visto anche quanti giocatori che circolano da una squadra all'altra i vecchietti che poi si insomma sono buoni solo di ingaggio ma poi i gol non si vedono più ecco siamo utenti allora sempre richiamo l'altezza la maturità del giornalista che io vi stimo molto e allora dovete no no capite però non possiamo parlare così ecco insomma non è semplice inutile promettere no? perché da po' cioè è chiaro che cerchiamo di fare il massimo la volontà è quella di fare un'ottima squadra e di vincere e di ottenere grandi obiettivi ecco questo è sempre stata perché io e come tutti non mi diverto a perdere le partite ecco questo lo dovete capire quindi se speriamo delle partite vuol dire che qualcosa non ha girato nel verso giusto non è un ordine ecco questo dovete capire Simonetta adesso è Mediaset Premium sono qui Mister volevo chiederle se è soddisfatto della scelta della società di fare questo ritiro per la preparazione della squadra qui a Udine in città che è la prima volta insomma che viene fatta questa scelta negli ultimi anni se ha già visto le strutture e la sua opinione anche su come stanno andando avanti i lavori dello stadio dove lei avrà l'onore insomma di iniziare allora per quello che riguarda la preparazione quando mi è stato chiesto se volevamo farla qui ma la società è stata corretta a dirmi anche che eventualmente ci saremmo potuti spostare l'ho sposata immediatamente perché è un po' nella mia filosofia poter lavorare sempre dove le strutture sono migliori e dove c'è possibilità di avere tutto sotto controllo io in passato con l'Atalanta siamo andati in ritiro l'Atalanta era sempre abituata a partire ad andare fuori e invece sposai un ritiro a mezz'ora da Bergamo per avere la possibilità di avere sempre tutto sotto controllo e di stare il più vicino possibile alla città che poi devi rappresentare mi era capitato così anche quando ho allenato il Perugia mi ricordo andammo a fare un ritiro a Gubbio lì proprio a due passi e quindi la cosa va benissimo anche perché qui abbiamo delle strutture all'avanguardia e spostarci di poco per poi avere giusto un minimo perché la differenza climatica poi non è neanche tanta di fresco insomma credo che sia più utile farlo qui e questa scelta l'ho approvata pienamente e poi per quello che riguarda lo stadio si fa molto piacere perché comunque lo stadio è veramente molto bello in questo inverno in effetti giocare a Udine era un po' non dico difficile ma insomma sai con le gru in mezzo con questi filastri in costruzione era un po' surreale ora credo che invece la struttura è già quasi tutta completata è veramente uno stadio di grande livello buongiorno Ministro Barbara Castellini Radiospazio Mondo Udinese punto it negli ultimi anni l'Udinese ha cambiato un pochino il rapporto con il proprio settore giovanile nel senso che sta lanciando dei ragazzi come è successo lo scorso anno con Simone Scuffet quest'anno ha esordito Simone Puntisto sapendo anche un po' la tradizione dell'Atalanta volevo sapere qual è il rapporto col settore giovanile se è abituato a seguire le squadre noi ce l'avevamo lì il settore giovanile per cui c'era un rapporto quotidiano io addirittura il giovedì gioco esclusivamente amichevoli con il settore giovanile perché non mi piace molto andare fuori a fare amichevoli proprio perché il giovedì ti dà l'opportunità di tenere sotto controllo e la primavera o gli allievi se vuoi all'epoca c'era anche la Beretti quindi è un giorno molto importante perché ti permette intanto di dare un'occhiata al settore giovanile e poi qui con noi tra l'altra cosa si allenerà la primavera io spesso ho ricorso all'aiuto della primavera anche per fare allenamento spesso ho portato dei ragazzi in primavera a volte d'accordo con Mino Favini che era il direttore del settore giovanile storico dell'Atalanta ho premiato dei ragazzi che si erano distinti e li ho portati ad allenarsi con noi così come ho premiato dei collaboratori del settore giovanile che hanno lavorato molto bene e hanno fatto il salto di qualità passando in prima squadra c'è stata sempre una grande sinergia a Bergamo è impensabile non vivere in sinergia col settore giovanile e la stessa cosa sarà fatta qui a Bergamo qui a Udine scusate buongiorno per quanto riguarda il modulo tattico ha detto che lei vorrà giustamente vedere i giocatori che avrà a disposizione però per quanto riguarda il reparto avanzato lei ha giocato con parecchi moduli ma quale preferisce tra l'1-2 il 2-1 quello che fa vincere le partite guarda non è che ce n'è uno non è che ce n'è uno che è meglio di un altro noi dobbiamo cercare di fare sempre un gol più degli altri per cercare di vincere le partite se è possibile anche due perché no e non ho ho giocato con tanti sistemi di gioco negli ultimi anni ho giocato un po' più specialmente a Bergamo col 4-4-1-1 perché avevamo dei giocatori che sposavano appieno quelle caratteristiche ma già in questi anni ad Alantini comunque spesso abbiamo anche cambiato abbiamo giocato con tre attaccanti abbiamo giocato a volte anche con una difesa a tre è chiaro che di base partivamo con un 4-4-1-1 perché le caratteristiche dei giocatori sposavano questo tipo di sistema di gioco ma se poi potremmo giocare con un trequartista una punta piuttosto che due punte noi ad Alanta c'è stato un periodo l'anno ricordo delle meno sei che giocavamo con Cigarini che è un regista classico due esterni d'attacco perché giocavamo con Schelotto e Bonaventura e due attaccanti Morales e Dennis per cui con una squadra anche abbastanza sbilanciatella direi per il nostro target però se riesci a lavorare bene sul campo a trovare i giusti equilibri credo che si possa fare tutto ci deve essere grande predisposizione mentale da parte dei giocatori a sacrificarsi perché il calcio di oggi richiede grande sacrificio per cui c'è da correre da impegnarsi da credire da tenere ritmi alti se hai queste di partenza hai queste caratteristiche e riesci a far sposare ai giocatori queste idee credo che il compito sia agevolato al di là poi del discorso delle due punte del trequartista credo che poi questo discorso qui possa essere messo a posto con la grande voglia di fare con l'organizzazione senza organizzazione è difficile fare buon calcio buongiorno Elena Viotto Anza il patron Pozzo prima ha detto che la cercava da tempo cosa la convinta questa volta a sposare il progetto dell'Udinese ma no io già in quell'occasione avevo sposato il progetto dell'Udinese poi purtroppo in quell'occasione non poteva incastrarsi per altri motivi che ora non sto qui a ricordare era il 2007 se non vado errato poi andai al Palermo ci fu un discorso con la società tra le altre cose quella storia è stata anche raccontata ma io avevo già fatto tutto con l'Udinese poi purtroppo non si incastrano delle cose sarei venuto già volentieri all'epoca poi niente poi ci siamo un po' persi di vista comunque sapevo della stima del Presidente perché spesso me l'ha anche manifestata quando abbiamo fatto delle amichevoli estive giocate a Bergamo ci siamo visti mi ha sempre manifestato grande stima la cosa reciproca quando quest'anno c'è stata questa occasione non ci ho pensato minimamente e ho subito accettato e sono molto felice di poter stare qui credetemi non sto bleffando non è una frase fatta un'ultima domanda avete parlato di Natale rimane non rimane lei ha detto sì che è un giocatore che mi sembra integro che abbia ancora voglia ma io direi che sarebbe la cosa ideale giusta da fare di Natale non esiste non esiste di Natale se dopo di Natale rimane se rimane sarà ancora valido tutto di guadagnato ma voglio dire che un allenatore come lei e anche una società come l'Udinese deve pensare al dopo di Natale come se non esistesse perché questo giovanotto ha 38 anni il blackout può essere improvviso quindi è un rischio puntare all'attacco su di Natale di Natale può essere un valore aggiunto se avrà ancora fisico e voglia ma io credo che voi pensiate a un altro attaccante ma stiamo ragionando su tantissime cose non è escluso che questa non sia una di quelle delle quali abbiamo già parlato ci mancherebbe io credo che lui direte insomma sia una società che in questi anni ha dimostrato di essere molto attenta e di sbagliare difficilmente il suo percorso quindi credo che anche quest'anno sarà fatto così e valuteremo tutto attentamente e faremo le cose nel miglior modo possibile grazie mi permetti di parlare sì un attimo sì ora glieli presento io voglio parlare di una cosa perché così come ho fatto in maniera lineare con con la proprietà quando mi è stata quando mi è stato chiesto se volevo venire a lavorare qua voi sapete benissimo che a me mi è successa una disavventura che non auguro a nessuno non più di qualche mese fa sono stato indagato per una cosa della quale sono totalmente estraneo però io quando ho avuto l'offerta dell'Udinese l'ho portata immediatamente davanti al mio avvocato a parlare di questa cosa e lo faccio anche con voi perché magari la domanda potrebbe arrivare prima o poi niente quella è una vicenda che può capitare a chiunque è una vicenda veramente assurda della quale alla quale non sai neanche come reagire insomma io sono totalmente estraneo alla cosa lo sai il mio avvocato credo lo sappia anche il dottor Di Martino dal quale sono andato a farmi sentire sono entrato dentro a una situazione per colpa di una chat farfugliata dove non vengo mai citato tra le altre cose su tante pagine di verbale il mio nome non c'è mai c'è una sigla un MR che potrebbe essere riconducibile a mister secondo chi indaga ma siccome io la mia casiera l'ho costruita sulla correttezza e sulla sulla lealtà insomma posso aver fatto degli errori a livello tecnico e attivo questo è in dubbio ma mai su una cosa del genere è una cosa che io sono convinto farà archiviata perché veramente è una cosa assurda ma qualora anche non dovesse essere archiviata sono convinto che ci dovesse essere la richiesta la richiesta parlo di un invia a giudizio sono convinto che a giudizio anche secondo quello che dice il mio avvocato che è molto ferrato in questo non ci andremo neanche perché ripeto io non ho fatto nulla è una cosa assurda non l'auguro a nessuno ti trovi dentro a un'inchiesta perché due persone parlano fra loro in maniera farfuliata non citandoti mai non nominandoti mai non sono mai mai apparso su nulla però purtroppo mi è capitato questa cosa che io comunque ci tenevo a dirla perché non sembra che uno vuole tenere nascosto qualcosa io sono una persona onesta seria non ho nessun tipo di problema ad affrontare qualsiasi cosa affronterò anche questa è una sfida che tra l'altro tra le altre cose mi ha dato ancora più forza e ancora più voglia di fare perché sarebbe veramente una grandissima ingiustizia io non ho fatto nulla sono estraneo a tutto ripeto sono convinto che verrà archiviato tutto perché è una cosa veramente illogica e quindi ve la volevo dire perché era giusto che io lo facessi se no sembra che voglio tenere nascosto qualcosa io non tengo nascosto nulla alla proprietà quando è successo questo li ho portati dal mio avvocato perché prima di mettere nero su bianco volevo che loro capissero bene com'era la situazione e la situazione è questa ripeto io mi auguro ci sia un'archiviazione e che la cosa possa essere stata soltanto un piccolo malinteso anche se purtroppo poi c'è stato risalto mediatico perché si sa bene poi in Italia le cose vanno prima sul giornale e poi te le dicono a te e qui e qui concludo parlando di questa cosa se vorrete in qualità di comunque organi di informazione stampa se vorrete parlare comunque con il mio avvocato lui mi ha dato l'opportunità di dirvi che è a vostra disposizione per ogni tipo di chiarimento su questa piccola vicenda che speriamo venga conclusa presto e se lo volete sentire io sono a disposizione per lasciarvi anche il numero di telefono ripeto io ho costruito la mia carriera sulla correttezza e non voglio che venga macchiata minimamente da niente grazie la parola al direttore sportivo per alcuni dettagli sulla stagione avete accennato al ritiro precampionato qui in casa il direttore ci darà alcune date alcuni spunti presentando anche lo staff che con il mister Colantuono lavorerà in questa stagione esatto prima di tutto presentiamo i collaboratori del mister che mi sembra ospitale e doveroso da parte nostra allora il mister si avrà della collaborazione di Roberto Beni che è l'annatore in seconda Mariano Coccia allenatore dei portieri Marco Montesanto preparatore atletico e Michele Armenese il quale non è presente collaboratore tecnico la prima persona al quale il mister ha già dato un permesso no perché è di Pari sarebbe stata siccome sta facendo altre cose sempre che riguardano il nostro lavoro non l'ho voluto Michele Armenese collaboratore tecnico che si sta occupando di alcuni aspetti che andranno a riguardare il nostro lavoro per cui non l'ho fatto venire da Bari perché avrebbe perso dei giorni che invece a noi ci servono per cominciare meglio il lavoro ecco poi visto che abbiamo parlato di ritiro vi confermo che la data di raduno è quella del 6 luglio lunedì alle ore 17 qui in sede rimaremo in sede per tutta la durata del precampionato e ci sposteremo solamente per disputare della Micheuli delle quali solamente tre vi posso dare l'ufficialità perché degli altri non abbiamo ancora firmato un contratto e quindi la prima sarà il 14 contro lo Schalke 04 a Klagenfurt la seconda no la seconda sia amichevole che possiamo ufficializzare è quella dell'1 agosto a Bastia in Corsica contro il Bastia e l'altra sarà l'8 agosto sabato a Oporto contro il Porto abbiamo parlato di salvezza ma abbiamo anche dimostrato negli anni che siamo riusciti a fare cose straordinarie cose che che normalmente fanno società che non hanno 40-50 milioni di ricavi come l'Udinese ma 250-300 milioni quindi allora non si può mai dire mai ecco no a tutto quindi noi partiamo con i piedi per terra con tanta ambizione da parte di tutti perché una cosa che è positiva che tutti quelli che vengono qui vengono per fare carriera e quindi sono tutti ambiziosi compreso il mister perché la prossima volta va in una grande società questo glielo firmo speriamo però che questo si ritardi un po' qualche anno e non diventa armato continuamente ecco grazie buongiorno Marco Agrusti Gazzettino ci siamo sentiti pochi giorni fa una domanda per lei e una per il patron Pozzo comincio da lei arriva dopo la peggiore Udinese da quando il campionato è a 20 squadre a livello di prestazioni e di punti sente questa responsabilità perché in realtà qui il pubblico è vero che la salvezza è l'obiettivo poi però alla fine la gente quando diventa solo la salvezza inizia a fischiare quindi insomma sono abituati abbastanza bene la sente questa responsabilità invece per il patron Pozzo è un anno più uno di opzione per Stramaccioni biennale per Colantuono significa che c'è più fiducia in Colantuono rispetto a Stramaccioni o significa che già c'era evidentemente un progetto diverso dietro a questo allenatore fatto e finito a differenza di Stramaccioni parto io ma avevi chiesto scusami ora stavo sì ma no intanto guarda io volevo anche salutare tra le altre cose Stramaccioni con amicizia con cordialità capisco che sono dei momenti particolari ma nella nostra carriera questi sono momenti che si vivono io l'ho vissuto era marzo quindi fanno parte del gioco e sono convinto che presto potrà tornare in pista e lo saluto cordialmente la responsabilità la responsabilità è quella di allenare l'Udinese poi quelli che saranno che è una grossa responsabilità responsabilità perché ritengo l'Udinese una società importante e quella è la mia responsabilità cercare di poter rendere al meglio di lavorare quotidianamente la cosa che io prometto senza dimore di essere smentito è quella di lavorare sodo dalla mattina alla sera perché ho fatto sempre così in questi 15 anni di carriera la voglia non è mai lesinata poi a volte il calcio lo sapete meglio di me è legato a a un palo a un episodio però credo che quando c'è voglia di lavorare e si è messo nelle condizioni ideali di lavorare come qui ad Udine poi alla lunga quello che tu ti sei hai pensato hai immaginato credo che possa arrivare la responsabilità me la prendo sono convinto che potremo fare un buon campionato così come diceva il Presidente come lo è stato quello dell'Udinese l'anno scorso per quello che riguardano gli obiettivi e andremo a valutare quotidianamente ripeto solo con il lavoro fare promesse o sbandierare cose credo che intanto non fa parte del mio profilo mi ritengo molto una persona che con i piedi molto ben piantati per terra per cui stare a fare programmi non mi piace anche perché gli obiettivi poi come diceva un altro allenatore mio collega che è Deglio Rossi vanno centrati non vanno enunciati prima vanno centrati noi ci attrezzeremo per fare sicuramente un campionato che possa accontentare i nostri tifosi cercare di esprimere un buon calcio perché credo che l'Udinese abbia i giocatori per poter fare questo parlava del predecessore bene lui ha fatto il suo dovere gli abbiamo chiesto la salvezza la salvezza l'ha conseguita ritengo che sia un ottimo allenatore un allenatore giovane e avevo premesso prima che allenare questa piazza non è una cosa semplice perché non basta essere bravo allenatore eccetera poi ci vuole anche la maturità che non so sarà come il vino che non riesci il vino diventa buono dopo dopo alcuni anni ecco e quindi io sono rimasto ho detto che ero e rimango un tifoso di stramaccioni e vi garantisco che sicuramente sarà un allenatore che farà carriera ecco qui ha fatto bene il suo lavoro per me visto la particolarità di questo di questo ambiente del nostro spogliatoio hai bisogno di un di un allenatore vi ho detto autorevole o autoritario che che abbia la personalità di tenere vicino tutti questi ragazzotti ecco questo è una cosa importante no e come vedete ci sono degli aspetti che solo diciamo la maggiore esperienza ti permette di senza criticare nulla perché poi se ribadisco che lui ha fatto il suo dovere che noi siamo rimasti contenti abbiamo parlato di un'opzione si è liberato il mister se era libero l'anno prima l'avremmo preso perché era una priorità ecco rispetto quindi per questo non è diciamo una scelta un titolo di demerito per non aver esercitato l'opzione ecco è solo che a un certo punto abbiamo fatto una scelta che riteniamo per questa situazione il mister la persona più idonea per portare avanti questo progetto ha già parlato con Totò di Natale e se ha già parlato se lui rimane a 38 anni cambierà magari il suo ruolo all'interno della squadra nel senso magari non sarà tutto più incentrato su di lui oppure si continuerà allo stesso modo come si è andato avanti negli ultimi anni ma io ancora con Totò non ho parlato ma anche questa cosa è successa in questi giorni per cui ho dovuto prima espletare delle formalità con la società la mia vecchia società e con la nuova società mi riproporrò di farlo sicuramente nei prossimi giorni io credo che parlare di Natale insomma non ce n'è bisogno insomma anche l'anno scorso ha fatto il suo campionato ha fatto i suoi 14 gol se non vado errato è un valore sicuramente aggiunto per questa squadra ed è un punto di riferimento per cui vedremo quello che sarà come fai a fare delle previsioni su un giocatore che ha dimostrato comunque ancora di stare bene o a priori dire farà giocherà part time piuttosto che è chiaro che è un giocatore che andrà gestito in maniera diversa perché è un giocatore che ha 39 anni e ha delle esigenze diverse da un ragazzo di 20 o di 22 però io sono convinto che lui ha talmente tante esperienze talmente tanto intelligente e io mi metto e io mi metto a sua disposizione perché mettersi a disposizione del giocatore è mettersi a disposizione poi dell'Udinese noi abbiamo bisogno di tutti coloro che possano farci fare le cose per bene e siccome in questi anni di Natale è stato quello che ha contribuito maggiormente per numero di gol alle sorti dell'Udinese io mi auguro che possa contribuire ancora ma sono convinto che al di là dei gol o dei numeri potrà essere una presenza utile e fondamentale anche per il gruppo insomma poi deciderà lui è chiaro io non so Totò poi se il Presidente ci ha parlato io non lo so non so lui cosa ha deciso di fare ma credo che lui sia ancora bene penso che possa essere ancora utile poi lo decideremo strada facendo questo Buongiorno Marino Casario Sky Sport Sì L'Olega Franco le ha chiesto giustamente di di Natale io le chiedo se nella squadra di quest'anno lasciando stare il mercato che verrà il Patron Pozzo ha parlato di tanti giovani che sicuramente sono stimolanti da allenare se la senti di fare qualche nome di quelli che sicuramente resteranno o se le è rimasto impresso qualcuno di quest'annata che le è piaciuto più degli altri Assolutamente no insomma perché sarebbe non è questo il momento per parlare di giocatori che resteranno di mercato stiamo facendo un po' il punto della situazione e parlare oggi di una cosa sarebbe intanto irrispettoso nei confronti di chi compone questa rosa ma potrebbe essere anche tutto così Aleatorio oggi parli di un giocatore che sei convinto che possa rimanere e poi magari te lo portano via perché ci sono richieste importanti oppure pensi che uno non può rimanere e invece poi alla fine lo tieni perché c'è le dinamiche ancora non è che sono c'è ci sono delle idee è chiaro ci sono dei discorsi che stiamo stiamo affrontando però lo faremo in questi giorni con la massima calma perché vorremmo fare le cose veramente veramente per bene e farle di fretta come c'è il famoso detto la gatta presciolosa ha fatto i figli ciechi per cui meglio fare le cose con calma e con tempo una cosa è certa la rosa dell'Udinese è una buona rosa formata da uno zoccolo duro come prima ci dava il presidente di giocatori che possono essere l'anima di questa squadra che possono essere quelli che da prendere come esempio e poi c'è un gruppo di giovani di estremo valore che si integra bene con questo con questo zoccolo duro che può fare delle cose secondo me all'altezza di quelli che poi saranno gli obiettivi che andremo a identificare è chiaro che probabilmente qualcosa sul mercato andremo a fare però ora parlarne insomma è un po' troppo presto diciamo buongiorno minister lo sappiamo ciao ciao due domande la prima appunto sui giovani lei a Bergamo aveva sempre questa nomea di non lanciare i giovani almeno per quello dei tifosi e poi secondariamente come si è lasciato un po' con la società con i percassi bene con il resto della società di lavoro devi rendere diciamo un ambiente con una mentalità comune a tutti e portarli a un livello culturale che non è per tutti i paesi uguale eccetera quindi è un grande un grande lavoro ma sono convinto che lui è assolutamente all'altezza di farlo per la forte personalità che ha quindi adesso non so chi passiamo alle domande dei giornalisti per il direttore Giaretta naturalmente potete vi chiedere anche a padron Pozzo al presidente soldati quello che volete nel corso di questa conferenza vi pregherei essendo alla prima conferenza con il nuovo mister di presentarvi quando fate la vostra domanda Guido Gomirato Gazzettino buongiorno prima di fare una domanda a lei volevo farla Pozzo 21 anni di Serie A sono 25 21 anni di seguito ma lei ha un curriculum di 25 anni di Serie A in 100 anni allora sono anche 35 più del doppio della storia dell'Udinese in A quindi sottolineiamo che questo è particolare per quanto riguarda l'allenatore io credo che sia stata fatta una scelta ponderata che non ha tenuto conto che il signor Colantuono è stato esonerato a parte che aveva un'Atalanta depauperata di alcuni elementi importanti con Dennis lui sa che non ha fatto la preparazione ma voglio dire che la scelta è stata è dipesa dal suo curriculum da come lui lavora quindi è un modo nuovo da parte di una società segue un allenatore perché di solito in una società non segue mai l'allenatore esonerato si vede che ha puntato sul modo di lavorare di Colantuono e su quello che ha fatto anche quest'anno è ovvia la risposta perché beh prima di tutto un allenatore si è lavorato tanti anni in una società con caratteristiche similare similare all'Udinese con risorse limitate come quelle dell'Udinese e ha fatto molto bene perché non ha mai rischiato quindi non è possibile che appunto si esprima un giudizio negativo verso la carriera di un allenatore perché a un certo punto dopo tanti anni 6-7 non so quanti anni ha lavorato l'Atalanta no? e poi a un certo punto abbiamo anche la conferma che le potenzialità erano quelle che erano ma io non voglio entrare negli affari degli altri e quindi insomma ha lasciato la squadra che era diciamo nella zona salvezza e si è salvata quindi diciamo lui aveva fatto il suo dovere ha lasciato ma non credo che questo sia un neo no? perché noi infatti non abbiamo dato nessuna importanza a questo episodio nel calcio succede questo alle volte si cambia anche per dare una scossa per provare per vedere perché ovviamente quando una squadra non funziona la base è sempre la causa è sempre diciamo la qualità dei giocatori perché però talvolta succede che cambiando l'allenatore riesce a dargli quella scossa che nel calcio purtroppo è difficile stabilire scientificamente perché non è nulla di certo e allora magari sono quei tentativi però con questo non si può togliere assolutamente l'esonio di un allenatore non è un mi trovo d'accordo ma la domanda era anche per colantuono questo significa colantuono che il comportamento della società che ha puntato sul curriculum su come lei lavora mentre siamo abituati a vedere in serie A che si guarda gli ultimi risultati e si vede questo è stato esonerato perché lo portano questo dimostra quanta fiducia ha la società in lei si infatti io ringrazio la proprietà di questa grandissima chance perché reputo l'Udinese una società all'avanguardia una società che viene presa a modello da tanti club in Italia tra le altre cose anche noi dell'Atalanta per alcune cose ci siamo ispirati all'Udinese per il modo di lavorare e quindi questo mi fa molto piacere la domanda che faceva lei si è giusta è chiaro che a volte si cerca di dare una scossa ma l'Atalanta quando io sono andato via era salva la quarta ultima con tre punti di vantaggio sul Cagliari con lo scontro diretto tra le altre cose a favore e l'Atalanta comunque è arrivata a quarta ultima con tre punti di distanza dal Cagliari e con lo scontro diretto sempre a favore quindi significa che tutto sommato il lavoro quest'anno poteva essere quello perché all'Atalanta abbiamo fatto cose straordinarie in questi anni e ci poteva stare che in un percorso magari così lungo e di grandi sacrifici ci potesse essere un anno meno brillante degli altri perché noi abbiamo concluso sempre i campionati con 50 punti in carniere tranne un anno ne abbiamo fatti credo 44 partendo anche con penalizzazioni per cui ripeto questo mi fa molto piacere e di questa chance non posso che ringraziare la famiglia Pozzo così come ringrazio comunque la famiglia Parcassi con la quale ho uno straordinario rapporto e che mi ha comunque permesso di svincolarmi perché avevo due anni ancora di contratto e di poter affrontare questa nuova avventura con grande entusiasmo Buongiorno Buongiorno a lei Meroi Messaggero Veneto volevo chiedere a Bergamo lei ha lavorato con Pierpaolo Marino che è una persona che forse conosce meglio di tutti l'ambiente udinese se le ha detto qualcosa se che cosa le ha raccontato di Udine Marino mi ha raccontato di Udine sempre di una società all'avanguardia di una società straordinaria dove poter lavorare dove si può lavorare molto bene perché è una società super organizzata ripeto quello che un po' ho detto prima insomma l'udinese nel nostro ambiente viene sempre presa a modello come un certo tipo di società che è sempre pronta a tutto che ha struttura che ha organizzazione che ha uno staff consolidato per cui Marino mi ha solo parlato bene dell'udinese buongiorno Francesca Spangaro Telefriuli buon lavoro una domanda per lei e una per il Parampozzo bravissima in che cosa si possono somigliare a Talante Udinese in cosa invece pensa che il suo lavoro qua sarà radicalmente diciamo diverso dalla sua più recente esperienza e poi guardando anche agli obiettivi una domanda al Parampozzo perché prima diceva appunto il predecessore ha fatto quello che è stato chiesto ovvero la salvezza però se si è cambiato allora adesso vuol dire che gli obiettivi sono altri? Ma per quello che riguarda il parallelo fra le due società credo che ne abbia parlato il Presidente prima giustamente sono due società che grosso modo rispecchiano un po' lo stesso profilo anche se poi l'udinese in questi ultimi anni insomma non dimentichiamoci che ha partecipato per due volte alla Champions League ha fatto l'Europa League quindi però è chiaro che il profilo è di una provinciale diciamo importante direi così quindi sono due società che da questo punto di vista si somigliano molto che hanno partecipato a tanti campionati di Serie A perché anche l'Atalanta ne ha fatti tantissimi di Serie A e quindi anche l'Atalanta ha una struttura molto importante quindi da questo punto di vista direi che sono due società molto simili poi per quello che riguardano gli obiettivi credo che su questo possa rispondere il Presidente io non posso far altro che associarmi a quello che ha detto Pocanzi lui comunque l'udinese io mi ricordo quando Guido Lynch entrava la Champions League poi quando ripartiva diceva l'anno dopo il primo obiettivo è la salvezza che comunque è necessariamente d'obbligo perché qualsiasi obiettivo una società voglia raggiungere passa prima dai 40 punti quindi quanto prima una squadra sarà stata brava a raggiungere e a mettere in cassaforte la permanenza nella categoria che poi credo sia una cosa fondamentale e se ci sarà spazio e tempo perché non andare a guardare anche altre cose visto e considerato che l'udinese in passato l'ha fatto però credo che il primo obiettivo sia sempre quello buongiorno Marco Grusti deve rispondere deve rispondere il vostro Presidente ambizioni le ambizioni sono tante sempre con i piedi per terra perché se adesso finalmente dopo dieci anni di battaglie siamo riusciti a costruire uno stadio è perché sempre in questa negli obiettivi della società era diciamo la volontà di crescere quindi noi pensiamo che lo stadio dia maggiori risorse e fidelizzi maggiormente i tifosi che sono una cosa determinante perché bisogna dire anche che non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato l'anno scorso in un cantiere no e quindi anche questo ha influenzato parzialmente i risultati in casa no perché la presenza di un tifo che abbiamo noi abbiamo un tifo educato tranquillo però non è proprio infiammato no e quindi adesso va bene abbiamo fatto lo stadio all'inglese perché possono dare il 5 ai giocatori il sì perché siamo a ridosso del campo no quindi sono tutte cose pensate appunto per creare tutto questo entusiasmo casalingo che permetta di ricavare qualche punto in più ma soprattutto sponsor e tutte queste attività che cerchiamo di fare al fine proprio di migliorare diciamo la nostra classifica di incassi di risorse per poter appunto ambire a migliori risultati per quanto riguarda il mercato dell'anno scorso direi che effettivamente noi abbiamo preso alcuni giocatori provenienti da campionati diversi dove avevano avuto un rendimento notevolmente superiore a quello che poi hanno potuto sviluppare a Udine bisogna tenere presente che il campionato italiano è un campionato un po' atipico non ti danno spazio le difese è un po' diverso di altri campionati quindi un giocatore quando arriva qui ha bisogno di un certo adattamento sono ottimi giocatori perché come vi ho detto altre volte non è che li andiamo a prendere tra i profughi che arrivano qui che hanno diritto di tutto il riguardo e quindi magari mandare anche un osservatore a vedere se c'è qualche talento in mezzo però questo non l'abbiamo fatto e quindi sono tutti giocatori che hanno un buon curriculum che però come sempre spesso succede che arrivano qui dei giocatori che la gente si chiede ma dove li hanno presi questi giocatori e poi invece abbiamo tanti esempi che sono esplosi e che ora giocano nei massimi campionati e nelle massime squadre ecco quindi io direi che è vero che il rendimento della squadra non è stata all'altezza di quello che ci si aspettava tutti però prima di esprimere un giudizio io aspetterei ancora un anno diciamo superato il rodaggio e quindi è stato un anno di transizione un po' per tutti sia per tutti questi giocatori nuovi sia per lo stadio che ribadisco ha avuto anche questa il suo peso giocare lì in mezzo alle gru non è proprio il massimo ecco ho le otto del messaggero visto il calore questo caldo tremendo presidente patrone ci faccia fare sto sport da ombrellone cosa le ha promesso questo colantuono io prendo un attaccante un bomber perché la gente vuole un po' sognare le prendo un giocatore da 15 gol gliel'ha detto per la verità è appena arrivato lui ha accettato in bianco il tema voi sapete che un bomber non è facile possiamo tirare fuori tanti esempi la volontà effettivamente il bisogno c'è di un giocatore che possa diciamo fare non direi le veci di Natale perché di Natale qui è un giocatore a tutti gli effetti dell'Udinese dopo non so se lui vuole smettere di giocare purtroppo non dipende da noi dipende da lui sta di fatto che lui ha il contratto anche per il prossimo anno quindi sulla carta è un giocatore dell'Udinese dopo le dichiarazioni che ha fatto le avete le ha fatte a voi a me non ha mai fatto nessuna dichiarazione al contrario che allungare il contratto e quindi sappiamo che di Natale non è eterno sappiamo che gli altri hanno fatto il loro dovere no perché poi dieci golli ha fatto il terro eccetera eccetera ci sono dei giovani di buone speranze che promettono bene ma ovviamente bisogna bisogna cercare anche voi lo dite il bomber ma questo insomma tutti cercano il bomber avete visto anche quanti giocatori che circolano da una squadra all'altra i vecchietti che poi si insomma sono buoni solo di ingaggio ma poi i gol non si vedono più ecco stiamo utenti allora sempre richiamo l'altezza la maturità del giornalista che io vi stimo molto e allora dovete no no capite però non possiamo parlare così ecco insomma non è semplice inutile promettere no perché da po' cioè è chiaro che cerchiamo di fare il massimo la volontà è quella di fare un'ottima squadra e di vincere e di ottenere grandi obiettivi ecco questo è sempre stata perché io e come tutti non mi diverto a perdere le partite ecco questo lo dovete capire quindi se speriamo delle partite vuol dire che qualcosa non ha girato nel verso giusto non è un ordine ecco questo dovete capire no ok Simonetta Desta Mediaset Premium sono qui Mister volevo chiederle se è soddisfatto della scelta della società di fare questo ritiro per la preparazione della squadra qui a Udine in città che è la prima volta insomma che viene fatta questa scelta negli ultimi anni se ha già visto le strutture e la sua opinione anche su come stanno andando avanti i lavori dello stadio dove lei avrà l'onore insomma di iniziare allora per quello che riguarda la preparazione quando mi è stato chiesto se volevamo farla qui ma la società è stata corretta a dirmi anche che eventualmente ci saremmo potuti spostare l'ho sposata immediatamente perché è un po' nella mia filosofia poter lavorare sempre dove le strutture sono migliori e dove c'è possibilità di avere tutto sotto controllo io in passato con l'Atalanta siamo andati in ritiro l'Atalanta era sempre abituata a partire ad andare fuori e invece sposai un ritiro a mezz'ora da Bergamo proprio per avere la possibilità di avere sempre tutto sotto controllo e di stare il più vicino possibile alla città che poi devi rappresentare mi era capitato così anche quando ho allenato il Perugia mi ricordo andammo a fare un ritiro a Gubbio lì proprio a due passi e quindi la cosa va benissimo anche perché qui abbiamo delle strutture all'avanguardia e sporsarci di poco per poi avere giusto un minimo perché la differenza climatica poi non è neanche tanta di fresco insomma credo che sia più utile farlo qui e questa scelta l'ho approvata pienamente e poi per quello che riguarda lo stadio si fa molto piacere perché comunque lo stadio è veramente molto bello in questo inverno in effetti giocare a Udine era un po' non dico difficile ma insomma con le gru in mezzo con questi filastri in costruzione era un po' surreale ora credo che invece la struttura è già quasi tutta completa è veramente uno stadio di grande livello Buongiorno Ministro Barbara Castellini Radiospazio Mondo Udinese punto it negli ultimi anni l'Udinese ha cambiato un pochino il rapporto con il proprio settore giovanile nel senso che sta lanciando dei ragazzi come è successo lo scorso anno con Simone Scuffet quest'anno ha esordito Simone Pontisto sapendo anche un po' la tradizione dell'Atalanta volevo sapere qual è il rapporto col settore giovanile se è abituato a seguire le squadre di giovanile noi ce l'avevamo lì il settore giovanile per cui c'era un rapporto quotidiano io addirittura il giovedì gioco esclusivamente amichevoli con il settore giovanile perché non mi piace molto andare fuori a fare amichevoli proprio perché il giovedì ti dà l'opportunità di tenere sotto controllo e la primavera o gli allievi se vuoi all'epoca c'era anche la Beretti quindi è un giorno molto importante perché ti permette intanto di dare un'occhiata al settore giovanile e poi qui con noi tra l'altra cosa si allenerà la primavera io spesso ho ricorso all'aiuto della primavera anche per fare allenamento spesso ho portato dei ragazzi in primavera a volte d'accordo con Mino Favini che era il direttore del settore giovanile storico dell'Atalanta ho premiato dei ragazzi che si erano distinti e li ho portati ad allenarsi con noi così come ho premiato dei collaboratori del settore giovanile che hanno lavorato molto bene e hanno fatto il salto di qualità passando in prima squadra c'è stata sempre una grande sinergia a Bergamo è impensabile non vivere in sinergia col settore giovanile e la stessa cosa sarà fatta qui a Bergamo qui a Udine scusate buongiorno per quanto riguarda il modulo tattico ha detto che lei vorrà giustamente vedere i giocatori che avrà a disposizione però per quanto riguarda il reparto avanzato lei ha giocato con parecchi moduli ma quale preferisce tra l'1-2 il 2-1 l'1-1 quello che fa vincere le partite guarda non è che ce n'è uno non è che ce n'è uno che è meglio di un altro noi dobbiamo cercare di fare sempre un gol più degli arti per cercare di vincere le partite se è possibile anche due perché no e non ho ho giocato con tanti sistemi di gioco negli ultimi anni ho giocato un po' più specialmente a Bergamo col 4-4-1-1 perché avevamo dei giocatori che sposavano appieno quelle caratteristiche ma già in questi anni ad Alantini comunque spesso abbiamo anche cambiato abbiamo giocato con tre attaccanti abbiamo giocato a volte anche con una difesa a tre è chiaro che di base partivamo con un 4-4-1-1 perché le caratteristiche dei giocatori sposavano questo tipo di sistema di gioco ma se poi potremmo giocare con un trequartista una punta piuttosto che due punte noi all'Atalanta c'è stato un periodo l'anno ricordo delle meno sei che giocavamo con Cigarini che è un regista classico due esterni d'attacco perché giocavamo con Schelotto e Bonaventura e due attaccanti Morales e Dennis per cui con una squadra anche abbastanza sbilanciatella direi per il nostro target però se riesci a lavorare bene sul campo a trovare i giusti equilibri che si possa fare tutto ci deve essere grande predisposizione mentale da parte dei giocatori a sacrificarsi perché il calcio di oggi richiede grande sacrificio per cui c'è da correre da impegnarsi da aggredire da tenere ritmi alti se hai queste di partenza hai queste caratteristiche e riesci a far sposare ai giocatori queste idee bene lo stesso perché Marino ha detto mi sentivo si sentiva quasi sollevato dopo l'esonero di rega ma no il discorso è intanto il discorso dei giorni quello che può dire un tifosi o due tifosi è rilevante io credo che per ogni persona per ogni allenatore per chi lavora comunque c'è sempre dietro qualcosa di scritto e c'è un background basta guardarlo quello che è stato fatto in questi anni a Bergamo specialmente nella seconda fase dopo il ritorno noi abbiamo fatto dei campionati importanti lanciato tantissimi giovani abbiamo mandato abbiamo soprattutto ricostruito giocatori che erano persi senza entrare nel dettaglio dei nomi perché non è carino ma giocatori che erano quasi persi li abbiamo ricostruiti e con i quali l'Atalanta poi ha potuto fare anche mercato abbiamo messo in mostra tantissimi giovani poi il suo discorso dei giovani diventa una cosa un po' annosa il giovane è importante è importantissimo ed è chiaro che deve non c'è differenza l'importante è che l'Udinese vinca e lo deve fare attraverso i giovani se ci sono in rosa o attraverso i meno giovani se ci sono non è che si può fare un discorso diverso perché poi credo che l'obiettivo è primario vada raggiunto poi le strade possono essere tante io con i giovani non ho nessun tipo di problema ripeto la storia dell'Atalantina lo dimostra e per quello che riguarda invece come mi sono lasciato con Bergamo bene io con la proprietà ho un ottimo rapporto con Pierpaolo uguale lo stesso con Sartori non è che mi sono sentito sollevato è che forse dopo tanti anni vissuti a certi ritmi tu sei bene perché stavi lì quello che abbiamo fatto noi in questi anni abbiamo fatto 52 punti il primo anno l'anno dopo ci siamo salvati e a gennaio abbiamo mandato tre titolari l'anno dopo abbiamo rifatto 50 punti abbiamo lottato per l'Europa il primo anno con i 52 punti ci saremmo andati molto vicino senza dimenticare che nella mia prima stagione atalantina l'Atalanta andò in Europa poi non la fece perché si rifiutò di fare l'Inter Toto all'epoca era un'altra gestione però raggiungemo l'Europa questa è una cosa che spesso non viene detta ma noi con l'Atalanta raggiungemo l'Europa quindi abbiamo fatto delle cose importanti io mi sono lasciato bene con tutti ripeto non è stato un sollievo è stata forse una presa di coscienza comune io ho parlato con Marino gli ho detto che se eventualmente volevano dare uno scossone come solitamente si fa in questi casi quando la squadra tende un attimino magari ad appiattirsi potevano farlo tranquillamente che da parte mia avrebbero avuto sostegno non ci sarebbe stato nessun problema ma perché a quella città e a quella proprietà sono legato da valori molto forti di grande affetto e di grande gratitudine ripeto sia nei confronti delle due proprietà anche in quella Ruggeri ma anche nei confronti della città dei tifosi io sono stato sette anni sono tanti in una piazza in Italia credo che sia una cosa estremamente rara ci sono stato molto bene sono molto legato a Bergamo per tantissimi motivi rimarrà sempre nel mio cuore ora è chiaro che comincia una nuova avventura e spero di poter ripetere quello che è successo a Bergamo anche qui a Dudine magari cercando anche di fare meglio perché credo ce ne siano le possibilità volevo fare ancora due domande una sullo stadio questo è un anno importante come diceva prima il Presidente perché c'è lo stadio nuovo e questa se vogliamo è un'altra piccola responsabilità e poi non parliamo di giocatori ma parliamo magari di modulo questa è una squadra che è sempre stata abituata negli anni a giocare a tre i migliori risultati da Spalletti a Zaccheroni sempre con la difesa a tre Stramaccioni l'anno scorso ha giocato a tre ma ha giocato anche a quattro perché poi la difesa a quattro ti permette di avere più soluzioni dalla metà campo in su lei ha già un orientamento e eventualmente preferisce avere un modulo base e cambiare magari in base alle caratteristiche dell'avversario oppure cambiare spesso? no cambiare in base alle caratteristiche dell'avversario no non l'ho mai fatto salvo in rare circostanze quando diventava forse necessario io credo che questa squadra noi dobbiamo trovare il vestito giusto a questa squadra credo che come diceva lei Poganzi che il vestito migliore che ha indossato l'Udinese negli ultimi anni è stato quello insomma con una difesa a tre un 3-5-2 che poi può diventare un 3-5-1-1 a volte è diventato un 3-4-2-1-1-2 perché spesso Francesco Guidolin faceva anche questo credo che quello forse possa essere il vestito migliore però si può fare anche altro non è detto intanto però bisognerà vedere la disponibilità e parlare con i calciatori perché io non ho mai non sono mai stato un integralista o meglio non ho mai chiesto ai giocatori di integrarsi totalmente a quelle che erano le mie idee se hai una squadra che preferisce fare una cosa diversa bisogna essere pronti a cambiare e ad adattarsi anche a quello che la squadra sa fare meglio e quindi c'è già un'idea la andremo ne vorrò discutere anche con la squadra perché è giusto io ho le mie idee e vanno rispettate però qui si lavora di equip si lavora di staff si lavora con la squadra e loro devono devono darti anche dei segnali io vorrò capire qual è la cosa che pensano possa essere più utile all'Udinese perché io posso essere fissato con una cosa ma poi se la squadra non è in grado di farla farei solo del male però ecco credo che quello che diceva lei Pocanzi possa essere un'idea perché stavo riguardando un po' negli ultimi giorni le cose dell'Udinese questa squadra ha ancora 7-8 giocatori se non vado errato dell'ultima qualificazione in Europa League e giocavano in una certa maniera c'è da dire anche che comunque oggi i calciatori sono molto sono abbastanza eclettici per cui il sistema di gioco diventa anche facile cambiarlo in corsa sanno fare un po' tutti e poi ai numeri io onestamente credo poco alla fine il calcio si concentra molto su due aspetti fondamentali che se non difendi con 8 giocatori se non metti 8 giocatori dietro la linea della palla fai fatica a fare una buona fase difensiva e se quando attacchi la porta non ne porti 4-5 dentro poi diventa difficile fare gol che poi siano attaccanti o siano centrocampisti questo cambia poco ma la presenza in area è importante e quindi ci sarà bisogno di questo ma andremo a scegliere comunque il sistema il sistema di gioco ripeto parlando anche con la squadra voglio sentire bene loro cosa pensano di questo mister buongiorno Nicola Angeli Udine Today anni grandi a Bergamo ma anche qualche esperienza precedentemente meno gratificante diciamo come può essere stato il Toro oppure Palermo cosa non deve succedere di quelle situazioni no ma io ci tengo a raccontare perché a volte ci sono esoneri io sono stato esonerato col Palermo la prima volta sesto in classifica ero sesto ci tengo a dirlo perché comunque ero sesto in classifica sono stato esonerato una scelta che io ho accettato perché i presidenti comandano e mettono i soldi e possono fare tutto quello che ritengono più opportuno anche allontanare l'allenatore che è sesto in classifica e sono stato richiamato credo dopo 13-14 partite finimmo molto bene nel campionato tant'è che poi il presidente chiese la mia riconferma e rimanei poi sono stato esonerato dopo una partita voglio dire quell'anno onestamente fu ingiudicabile insomma non credo che si possa giudicare un allenatore se ha giocato solo una partita tra l'altra cosa proprio qui a Udine fu la prima giornata per Demo e fui esonerato per quanto riguarda l'esperienza al Toro lì anche ci fu un esonero ero nei play-off dovevamo vincere il campionato eravamo nei play-off esonerato quattro partite sono stato fuori sono stato subito richiamato cambiamo completamente la squadra a gennaio arrivarono 14 giocatori nuovi arriviamo primi nel girone di ritorno e facemmo la finale per andare in Serie B con una squadra nettamente inferiore a quel Brescia per cui non penso che sia stata un'annata negativa anche quella e poi è ricominciata la parentesi ad Atlantina con i numeri che abbiamo visto poc'anzi per cui insomma a volte sì è vero c'è un esonero perché poi rimane impresso l'esonero però bisogna vedere anche che tipo di esonero è stato così come l'esonero di quest'anno insomma l'Atalanta era salva anche quest'anno quando io sono stato allontanato e comunque eravamo in pieno stavamo rispettando quello che ci avevano chiesto tutto qua cioè non volevo non era polemica questa era solo un attimino ribadire come erano successe queste cose perché poi rimane sempre impresso l'esonero però bisogna vedere che tipo di esonero è stato Buongiorno mister Mattia Pertoldi messaggero Veneto faccio una domanda a lei una al presidente se posso da profondo conoscitore della serie A come immagino che abbia visto in questi ultimi mesi l'Udiner giocare soprattutto nel giro di ritorno dall'esterno si è avuto l'impressione di una squadra un po' da encefalogramma piatto e i risultati non sono stati sicuramente all'altezza le chiedo tecnicamente dall'esterno che idea si è fatto cioè se è da intervenire più diciamo così mentalmente sulla squadra oppure se c'è da cambiare qualcosina a livello profondo visto che come ha sottolineato lei ci sono ancora 7-8 giocatori reduci dall'ultima Europa League quindi se il primo step diciamo è mentale o puramente tecnico mentre al presidente chiedo lo scorso anno abbiamo visto un mercato rispetto diciamo così alle abitudini dell'Udinese un po' diverso sono arrivati giocatori pressoché pronti come Ternezzi Spiris teoricamente anche Guilherme Theroux Cone e la squadra in campo però diciamo rispetto al passato dell'Udinese non ha retto e non ha prodotto quel tipo di risultati che forse ci si aspettava perché credo che anche lei qualcosa in più di 41 punti comunque comunque se li attendesse è un problema così secondo lei più che altro di manico e per quello che avete cambiato allenatore oppure è un problema per cui l'Udinese quando cambia tipologia di mercato come ha fatto l'ultimo anno poi non rende parto io allora per quello che riguarda il discorso Udinese dello scorso anno io non mi permetterò mai di parlare dell'Udinese dello scorso anno perché c'era un mio collega sarebbe rispettoso e riguardoso nei suoi confronti non lo farò mai ripeto di stramaccioni ho già detto lo saluto cordialmente ho visto delle partite è chiaro perché le ho viste mi sono fatta una certa idea per cui che spero sia giusta tra le altre cose perché qua parliamoci chiaro qua maghi non ce ne sono non è che uno arriva tocca e qua la panacea a risolvere tutti i problemi non è che ce l'ha nessuno solo con lui il lavoro si potrà si potrà venire fuori da determinate situazioni ripeto mi sono fatta un'idea cercherò di di lavorare e se è possibile migliorare dove secondo il mio punto di vista ci sono dei margini di miglioramento ma questo lo potremo fare solo quando comincerà la stagione e quando inizierò a lavorare con la scuola innanzitutto un grazie a tutti voi che siete qui presenti oggi e soprattutto un grazie anche ai giornalisti e al presidente al parompozzo che è qui presente con noi oggi per questa importante presentazione del nuovo allenatore dell'Udinese per la prossima stagione è un momento importante questo per la società in quanto ovviamente la scelta che è stata fatta è stata fatta su un allenatore estremamente estremamente preparato per quanto riguarda la Serie A ha militato in maniera importante per circa sette stagioni con l'Atalanta e che è un allenatore che ci è stato caldeggiato da moltissimi quindi un grazie per la sua presenza qui oggi per aver firmato con l'Udinese Calcio questo contratto e passo la parola al parompozzo signori buongiorno bene abbiamo concluso quest'annata io prima di tutto volevo ricordare una cosa e lo ricordo sempre ogni anno che siamo da 21 anni mi pare in Serie A giusto? e questo ritengo già un avvenimento eccezionale perché qui ci si dimentica che effettivamente noi siamo una piccola società lo dimostrano i ricavi capisco che il tifoso ha voglia di vincere non gli interessano i numeri eccetera ma io mi rivolgo a voi giornalisti i quali siete portatori di cultura verso il popolo perché se la gente legge i giornali legge per apprendere notizie e apprendere anche diciamo qualcosa a livello culturale dal giornalismo ecco e quindi alle volte vedo che certi risultati vengono trasmessi dal giornalismo in maniera sbagliata perché questa è una società che il suo primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza quindi io mi riferisco all'anno scorso e devo dire che l'abbiamo raggiunta senza soffrire e quindi diciamo è un obiettivo è stato un obiettivo importante e quindi non voglio rinegare nulla di quello che è stato fatto poi io sono soprattutto un tifoso voi lo sapete che nel calcio il calcio lo faccio per passione per tifo non mi sento un professionista e quindi neppure ritengo di avere le capacità di farlo io sono un imprenditore mi sento tale credo di aver fatto il mio mestiere di imprenditore abbastanza bene e il calcio lo faccio solo diciamo per passione quindi il primo obiettivo sarebbe sempre quello di raggiungere i massimi risultati però bisogna lavorare con ragionare con i piedi per terra altrimenti si rischiano delle brutte avventure e purtroppo ogni anno o quasi ogni anno si vede qualcosa di società nelle varie categorie che finiscono male quindi bisogna stare attenti ecco quindi concludo per il passato poi dico siamo arrivati anche terzi in classifica abbiamo fatto alcuni diversi anni di Europa e tutto questo grazie a una politica societaria che va alla ricerca di giovani perché non abbiamo altri possibilità alle volte crescono in fretta e diventano subito dei campioni e danno dei contributi determinanti per il risultato altre volte hanno bisogno di più tempo e altre volte non sempre diciamo quello che si vede in un giovane poi matura e si sviluppa negli anni bene quindi partiamo con questo principio ringrazio il predecessore del del mister ringrazio anche lo staff del predecessore hanno fatto un buon lavoro hanno adempiuto a quello che la società aveva chiesto aveva chiesto la salvezza bene perché siamo qui adesso con uno il nuovo mister a parte che lui sa che sono anni che lo stimiamo avevamo avuto già altri contatti anche eravamo vicini poi lui ha fatto altre scelte finalmente qui quindi crediamo molto nel suo lavoro iniziamo questa nuova stagione con grande entusiasmo dobbiamo renderci conto che non è facile scegliere l'allenatore dell'Udinese è una stazione un po' particolare noi lavoriamo come detto prima con molti giovani e poi abbiamo anche altri giocatori che ovviamente sono diciamo lo zoccolo di questa società anche perché vogliamo dare dei segnali a a questi calciatori che Udine può essere diciamo una tappa di passaggio però esistono dei casi di giocatori che sono qui da 8-10-15 anni e quindi vuol dire che c'è anche la possibilità di rimanere a Udine di fare una buona carriera una ottima carriera perché alla fine magari uno finisse la carriera a 30 anni e con ingaggi importanti noi possiamo offrire ingaggi inferiore però uno arriva a 35 36 77 anni a fine carriera rischia no ovvero tira le somme e non è andata male quindi vuol dire che se uno non trova la Juve il Milan eccetera non è detto che che sia una disgrazia perché a Udine ha la possibilità di fare un'ottima carriera e quindi esiste anche diciamo la possibilità di sentire la maglia nella pelle cosa che oggi è un discorso difficile da farsi verso i giovani che noi andiamo a cercare dei prospetti importanti e quindi hanno anche delle ambizioni e quindi se esplodono ovviamente hanno la richiesta di grandi squadre e purtroppo anche se avessimo la voglia se volessi fare anche un sacrificio io mio personale non potrei farlo perché di fronte a prospettive importanti un giocatore ha il diritto della sua carriera e cerco di concludere in breve era un piccolo salmoncino ai giornalisti questo qui perché per pregarvi ancora una volta di essere più collaborativi e di capire che insomma si vive una realtà del tutto particolare al mister noi diamo una responsabilità importante perché ha un passato qui diciamo anche di risultati importanti e il materiale che gli mettiamo a disposizione è sempre di giovani di buona speranza e che bisogna farli crescere allora il compito del mister non è solo di essere non basta essere un buon allenatore saper allenare eccetera bisogna avere tante tante altre caratteristiche che noi abbiamo trovato nel mister Colontuono perché effettivamente ha la personalità ha l'autorevolezza e l'autorità di tenere vicino un spogliatoio non facile perché multietnico con culture diverse e in pochi giorni in poche settimane